per capire bene che cos'è la calabria si potrebbero usare le poche parole che ha detto repaci sulla sua terra lui ha detto essere nato in calabria costituisce per me un privilegio come artista e come uomo debbo il meglio di me alla culla calabria per me vuol dire imperativo e categoria morale prima che espressione geografica calabrese nella sua migliore accezione metaforica vuol dire rupe cioè carattere e la torre che non crolla già mai la cima per soffiar dai venti e quindi ecco questo carattere meraviglioso dei calabresi che per certi aspetti può produrre immagini negative perché può significare chiusura per altre invece significa forza significa predisposizione al cambiamento e anche alla ribellione gente da spromonte 2019 proprio in un luogo che è diventato nel tempo suo malgrado simbolo di ricordi e percezioni negative c'è invece una manifestazione tutta virtuosa per raccontare la calabria in maniera diversa andando a recuperare tutti gli elementi meravigliosi che la natura e anche le persone hanno dato a questa straordinaria terra quindi vi invito praticamente a partecipare a questo evento se potrete fisicamente oppure se siete impossibilitati di farlo anche tramite le dirette facebook che ci saranno e che documenteranno e seguiranno tutti quanti gli eventi grazie a tutti